Sai cosa ti dico? Perché non te ne vai a cagare? Beh, mandami a cagare dai Ti ho mandato a cagare E perché? E perché mi mandi a cagare? Perché sei uno stronzo E' con noi Cristiano De Andrè Buonasera, buonasera, buonasera Benvenuto a questo show Benvenuto a questo show dei matti Questo show dei matti E' un po' matto sei anche tu, diciamo la verità Eh, sì, dalla tua vita caratterizzata Da elementi di follia Però a noi piace la follia A Erasmo Dallarosa andando in poi Direi che ha dato un senso a questa condizione Beh, assolutamente, assolutamente E' meglio essere un po' folli che normali E' meglio qualche giorno da folle Che cento giorni da che cosa? Da normali, diciamo Da normali, ho detto sì Allora, devo dirti subito Fa un po' paura se sono normali Dimmi, parezzo che c'è Che mi devi dire? Che per me è uno dei capolavori di Andrè Con cui ho dato Di Fabrizio Stai dicendo? Sì, di Cristiano De Andrè Di Cristiano? No, no, no Uno dei capolavori di Cristiano De Andrè Si chiama, che tu non conosci, ma sei un suo umano Si chiama Lady Barcollando Sì Che è una canzone meravigliosa Con cui ho fatto una quantità di pomiciate Che non hai neanche lì Lady Barcollando Allora, sì, devi farla sentire Ma la conosci solo tu la conosci? No, no Ma come fa sta canzone? Io non la conosco Insomma Com'è che fate? Ma no, ma non la voglio Non voglio che me la canti Di Barcollando Di Barcollando Nella nebbia del mattino Appuntato con il suo dito Ogni uomo Ogni destino Ma così la cantavi La cantichiavi No, no, adesso sto dicendo a Parenzo Ma tu veramente la sapevi a memoria Ma è meravigliosa Ho scoperto che Parenzo Cos'è? Senti la intro Dai zitto Ah, sei tu Senti la intro Senti che roba Ho detto che siamo matti Senti che roba Senti la ricerca musicale Oh, finalmente meno stronzata E' un po' di roba serie Vai Vai Senti qua Eh, poi Barcollando Nella nebbia del mattino Senti che roba Ah, la sai veramente? Ogni uomo Ogni destino La carità Suoi diritti Senti che roba Adesso Scusa hai visto per caso Passare la vita Cristiano non è preparata La sta portando via No, no Ma hai capito Hai capito Chi è lei di Barcollando? Beh, no Non ho ancora capito Spiegami Facciamolo spiegare Ascolta Di Barcollando È un po' la figura Berlusconiana Della situazione Perché tu sei stato Sempre molto Sei stato sempre Molto anti-berlusconiano O no? Sì, è abbastanza Pensi che Berlusconi Rappresenti un po' Il male assoluto Ma io penso Che Berlusconi Rappresenta Ha rappresentato Più che altro Da una parte Un grande Industriale E vabbè Non può non ammettere La verità Però dall'altro È anche un disastro Sociale politico Disastro social Ma socialmente Perché ha dato Un messaggio Negativo Ai ragazzi Ai giorni Che la felicità Si può comprare La felicità Si può comprare Non si è mai potuta comprare Secondo me lo sapevano Pure prima A prescindere da Berlusconi Lo sapevamo prima Ma molti invece Si sono creduti Quindi questo Secondo me Ma oggi tu Per chi voti? Per esempio Ma io sono Sei griglio Con 5 stelle Sì Con 5 stelle Sì Dove voti? Voto in Sardegna Perché ho ancora Ancora la residenza Lì Dunque Non manco voterai Comunque Sono genovese Sì lo so Avendo la casa Poi oggi In Sardegna Cioè tu sei Sei convinto Che con i 5 stelle Al governo Cambia tutto Ma Non so Credo che Comunque Abbiano Un'alternativa Migliore Di Di quello Che si stanno Presente E Renzi? Renzi non lo sopporti? Ma Come Berlusconi? No Beh Comunque Su quella strada lì Stessa roba dai Evitiamo Di parlare di politica Che adesso non è Vabbè Ma che ci frega Lo so che fai altre cose Adesso ne parliamo Hai scritto un libro Se devo risponderti sì Quel panorama Non è sicuramente allegro No beh Il panorama non è allegro È una cosa da demita Cioè Cristiano D'Andrei Deve dire Renzi Secondo me Che ne so Cioè Eh Renzi Se non è uguale a Berlusconi Poco ci manca Ci va vicino Vabbè Fa cose Cioè Dici fa cose di destra Fa cose che farebbe Berlusconi Ma adesso non te voglio mettere le cose in bocca È giusto per capire un po' Come la pensi su Renzi Che è il capo del governo Mi ne frega No però non sono Non sono Non sei renziano Si è capito E d'altra parte Dici che voti 5 stelle Allora esce un'autobiografia Per Mondatori Che si chiama la versione di C Fra poco inizi Credo una nuova Nuovo tour Che diavolo è Un nuovo Un nuovo Che fai Una No il Deandre Canta Deandre Deandre Canta Deandre Fino a dicembre Si Un tour Con i miei dischi Con le mie Con le mie canzoni Eccetera Adesso dopo 5 anni Si Dall'ultimo ripresento Un Deandre Canta Deandre Quindi 15-18 opere Di mio padre Di visitate da me Con il mio vestito Con i nuovi annunciamenti Come due dischi live Precedenti Di Diandre Canta Deandre Faccio un terzo disco live Però ti voglio segnalare Che la tua autobiografia Esce per Mondatori Cioè Berlusconi Sarà pure un diavolo Ma esce per Mondatori Ti voglio segnalare solo questo Esce per Mondatori Ma che in Audi Stai diventato Mondatori Beh ho capito Però esce per Mondatori Hai clubato un po' tutto Ho capito Ha pubblicato un libro Dici che Berlusconi È stato un esempio negativo Per i giovani E poi ha pubblicato Con Berlusconi Non tutti i milanisti Hanno votato Forza Italia No ma questo pure è vero Però Questo pure è vero Però ho capito Però Guarda quanto gode Cristiano Diandre Che pubblica un libro Non so se è contro Ma contro Berlusconi Con Berlusconi Meraviglioso questo Sì ma quello d'accordo Quella è la vecchia cosa Però ti ricordi Cioè che c'è È un libro di politica No vai che parli È un libro di pace In realtà Faccio pace con il mio passato Ha dei momenti difficili Della mia vita Ci sono un sacco di aneddoti divertenti Sicuramente Guarda io ho iniziato a leggerlo Ti voglio subito chiedere una cosa Ci sono molte cose Perché io sono molto diretto Tu Il rapporto tuo con la droga È finito oppure ancora Qualche cosa fai? Eh io sono diretto Te lo devo chiedere dai Direi che è finito Cioè ti fai qualche canno ogni tanto? Ma insomma ogni tanto Può anche succedere Ma non mi interessa Non ti interessa Ma veramente tu è Ti sei fatto anche di eroina? Sì È successo dai 15 ai 19 anni Cioè ma proprio con l'angue Sniffando Proprio l'eroina eroina Quella con le pere insomma No no Beh insomma sì Le pere Le pere La seconda La seconda E la cocaina per quanto tempo? Beh quello saltuariamente Saltuariamente Anche adesso no? Vabbè ma non c'è niente di strano Ogni tanto Io per esempio non mi ho fatto un cazzo Però non è che se uno si fa Si fa una striscia È un delitto Tu non ti sei mai fatto niente Io non mi sono mai Ti giuro Io Parenzo lo sa Sì sì Io mi sono Tanti altri Ecco vedi Non vuol dire che Chi non si fa nulla È sano No assolutamente Cruciani è l'esempio Di uno che non si è fatto nulla Ma ha delle idee malsane Quindi capisci che Insomma non c'è una relazione No guarda lo sai che cosa ho io Perché mi sono Mi sono salvato In realtà sono stato sempre circondato Da persone che si facevano Qualsiasi cosa Tranne l'eroina Perché forse sono Tu quanti anni hai Cristiano Scusami Beh ne ho 53 Beh no ma io ho poco Quando avevo 20 anni Stavo di moda purtroppo Sì no io ne ho quasi 50 Ma in realtà poi sono forse Ambienti diversi eccetera Ma comunque Io mi sono salvato Perché ho sempre Fatto finta di fare l'atleta E dunque dovevo tenermi Un po' lontano Dalle varie sostanze Eccetera eccetera No io quello non ci sono mai riuscito E l'alcol Né a fare l'atleta Né a fare finta E l'alcol tantissimo Anche adesso Insomma normalmente Ecco però Ma insomma non è che Ma se queste Io credo che Questo sia Un libro totalmente aperto A qualsiasi tipo di costi Perché uno può prendere Qualsiasi pagina E parlarne No no ma certo Non c'è dubbio O scriverla Però ci sono delle cose Ecco C'è la mia vita Quindi ci sono altre cose I più importanti Ecco per esempio Ti voglio chiedere una cosa Sono sempre stato curioso Di una cosa Chi fa uso di sostanze A lungo E anche alcol eccetera Scusami però Se deve essere un intervista No 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 Adesso poi parliamo d'altro Adesso parliamo d'altro La possiamo anche mollare lì Perché non ho più voglia No ma Cristiano Adesso parlo di un'altra Adesso parlo di un'altra Un libro c'è un tour E mi stai parlando di quello Ma il libro parlerà Ma scusi Il libro parlerà Oppure magari cominci a farti Che magari No io non mi comincio a fare Non mi comincio a fare Così ti rispondi da solo No io non mi comincio a fare Perché non mi faccio Non mi voglio fare Ma che c'entra Allora non vedo perché Stai continuando su questo argomento Ti voglio chiedere Questo argomento se volendo L'avevo già chiuso Ti stavo semplicemente chiedendo Io dico allora grazie Perché il mio libro parla Che è molto tanto C'è la mia vita Sì però Ma scusa Devi parlare alla radio No ma non mi fa bene alla radio Io vado per istinto Perché devi Poi c'è questa moda Ti chiede Tieni la freno Ma che vuol dire Tieni la freno Cioè ognuno fa Tieni la freno Tieni la freno Vabbè adesso Tu mi devi dire Come deve essere tenuto a freno Il mio istinto Cioè No sì Te lo devo dire io Perché visto che parli di me Non mi sembra Non mi sembra Di averti Magari hai raccontato Anche nel libro Stai parlando di una cosa Da 10 minuti Della stessa cosa Il mio libro Abbiamo parlato Abbiamo parlato anche Di una canzone Abbiamo parlato anche Di una canzone Con Parenzo Per cui non è vero Che abbiamo parlato solo Di questo Io ho detto Insomma Se parliamo Carri d'altro Non so se Sì sì Ma io ti stavo parlando Ti stavo parlando Del tuo rapporto Cioè tra droga e sesso Cioè le droghe Che rapporto hanno con il sesso Che cosa provocano Nel sesso Non lo so Non lo so Prova a chiederlo Qualche domanda Per me Non parlo di questo Non parli di questo Non parli di questo D'accordo Vuoi parlare di tua figlia? Vuoi parlare di tua figlia? No Posso farti una domanda Su tua figlia? No Se vuoi leggere L'ho scritta nel libro No Sai cosa ti dico? Sì Fai un libro Su l'autobiografia Gossiparo Io sono lontano dal gossip Io sono lontano Sono lontano Sono lontano dal gossip Sono lontano dal gossip Lo sto leggendo Lo sto leggendo Lo sto leggendo Allora io interrompo Ma perché? Parliamo di tuo padre Parliamo di tuo padre Stupida Stupida Lo stupido lo dice A qualcun altro Stupido La mia autobiografia Leggila e poi Sì io la sto leggendo Sei ignorante Sì io l'ignorante Tu sei un capone Sei una capra Chi? Sì Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Vabbè un poveraccio Dai su un poveraccio No poverete Sarà arrabbiato Ma chi se ne frega Uno non può fare domande Sulla sua vita Uno esce Un'autobiografia E fare domande Sulla sua vita Di che cosa parliamo Scusa Fare domande Sulla sua vita Le domande che tutti fanno Le cose che tutti dicono E le cose di cui tutti parlano Le poche persone Che ne parlano Lo che vuai è synergy Sulla sua vita Sulla sua vita